Che pollo sono stato, adesso sarà un problema spiegare agli agenti che sono innocente e pensare che bastava investire così poco per la campagna pubblicitaria, sarei stato a posto per un anno e l'attività sarebbe andata a gonfie vede, devo ricordarmene se mai uscirò da questo vestigio. Aspetta, cos'è che mi proponeva l'agenzia? Fammi pensare.